e Corner dal Panteon di Corso Matteotti a Vercelli puntata numero tredici dunque siamo con gli amici che hanno assistito insieme insieme all'umine cronista alla gara tra Modena e Provercelli ci abbiamo creduto abbiamo creduto alla vittoria allo stadio Braglia di Modena stadio che ci rievoca tantissimi ricordi siamo con l'amico Pino Ferrari se tanti altri amici che sentiremo tutti nel corso di questa puntata di Corner chiediamo chiediamo all'amico Pino un commento su questa gara che vede la pro soccombere per la rete di Marzorati nella ripresa una una fiondata imparabile per Pigliacelli Pino secondo me è un risultato bugiardo perché la Provercelli soprattutto nel primo tempo ha meritato parecchio parecchio di più di quello che è stato il risultato finale eh premio Nobel al telecranolista di Sky che definisce vittoria meritata del del Modena che secondo me assolutamente non è così e si è risolta purtroppo con un episodio e l'unica cosa da dire è che loro hanno sicuramente degli uomini più significativi dal punto di vista delle conclusioni eh a questo punto mi viene da dire che a centrocampo sarebbe meglio giocare con Pigliacelli e importa mettere Melgrati perché l'uomo più preciso in assoluto della partita è stato proprio lui grazie grazie Pino per il tuo commento puntuale preciso assolutamente netto sulla gara che ha visto la pro perdere a Modena per una rete a zero siamo ora qui con amico Massimo come hai visto la pro a Modena una bella pro nei due abrivi dei due tempi e poi pian pianino ci siamo fatti un po' chiudere il Modena ha davanti due o tre uomini come stanco che con l'invenzione sulla fascia ha poi messo l'uomo praticamente a tirare un rigore in movimento un peccato perché la partita era equilibrata il Modena a metà seconda tempo era in crisi il pubblico fischiava c'era da approfittarne forse un po' meglio davanti noi non abbiamo forse quei finalizzatori che possono inventare l'occasione questa pro che non mi segna più eh questo qua è un grosso problema perché effettivamente oggi stavamo secondo me giocando una bellissima partita eh contro chiaramente una un avversario che sta lottando come noi per non retrocedere per stare lì e effettivamente la la differenza l'hanno fatte le conclusioni verso la porta eh solo quello la partita è stata giocata bene il risultato anche secondo me bugiardo perché Modena tico è vero ha fatto due tiri verso la porta ma poi nient'altro di più secondo me il pallino del gioco l'abbiamo tenuto molto più noi di loro. Grazie grazie è vero certo che sì in termini di di possesso di palla credo che il Modena abbia abbia fatto qualche minuto in più adesso siamo con Nicola Fumarulo Paolo Sala Massimiliano Muraro vi cedo il microfono commentate commentate questa partita e le prospettive di una pro che continua a far fatica a segnare e che dopo due partite senza prendere gol ha raccolto una palla nel sacco. Sì lo non vorrei ripetere quello che è stato già detto la Pro Vercelli secondo me non ha demeritato nel senso che loro hanno creato due o tre occasioni noi forse una nel primo tempo con Mustacchio e basta giochiamo a metà campo non subiamo tanto è vero anche che creiamo poco e questo purtroppo se non la metti dentro potevi sperare di portare via il pareggio che secondo me era il risultato giusto però un rimpallo andato male in area è capitato sui piedi proprio di Marzorati che ha fatto il suo primo gol in serie B mi sembra proprio in data così. Paolo Paolo Sala collega della Sesia un commento sulla gara e sulle prospettive di campionato di questa Pro. Marzorati fa venire in mente un grande play del basket ecco beh a parte questo diciamo che l'andazzo della partita il pareggio sarebbe stato il risultato non perché siamo di Vercelli il risultato più giusto il problema è che un gol si può anche subire si può un gol si può anche subire e il problema è poi rimettere in sesto la gara creare delle occasioni importanti cosa che la Pro. Celli non riesce a fare se togliamo il gol di Marchi che ha fatto contro il Vicenza gli altri sono tre autogole ancora prima dobbiamo tornare a notte di tempi per segnare per aver fatto un gol questo è importantissimo adesso bisogna ripartire la squadra ha fatto la sua gara bisogna ripartire sarà importante la partita col Como un altro scontro un scontro diretto è importantissimo è chiaro che bisogna trovare qualche soluzione per la fase offensiva perché ripeto il gol si può anche incassare ma bisogna cercare poi di rimediare. Grazie 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 Paolo dunque Massimiliano a te il microfono per commentare questa gara della Pro e per le prospettive ha detto bene l'amico Paolo non si riesce a sfondare in fase offensiva come la vedi ma riguardo alla partita di oggi direi che poteva tranquillamente finire 0 a 0 però sono i le classiche gare che vengono decise da che possono essere decise da un episodio e sono state decise da un episodio come come in questo caso. Come sottolineava Paolo la cosa preoccupante è il la carenza di occasioni da rete cioè un una deficienza in fase in fase offensiva che in fase di costruzione che è molto preoccupante perché notavo prima che se Foscarini ha avuto il merito di di imbrigliare bene il il gioco del Modena e in generale il gioco delle altre squadre avversarie cioè facendo un gioco di ostruzione più che di che di costruzione ora deve pensare anche alla alla fase alla fase costruttiva. Marchi praticamente nel secondo tempo non l'abbiamo visto e nel primo tempo l'abbiamo visto solo sporadicamente. Dico Marchi perché Marchi è il terminale dovrebbe essere il terminale eh offensivo di di questa Provercelli. Purtroppo un'altra 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 cosa che non vedo vedo poco sono sono i cross forse perché anche questo è merito anche delle squadre avversarie che piuttosto che è merito nostro tutto per il perlanto riguardo agli esterni Mustacchio e di Roberto che sono fatto bene nel primo tempo hanno fatto un po' meno bene nel secondo. La coperta è corta dunque Pino. Sì la coperta è corta però vogliamo almeno spezzare qualche lancia a beneficio delle cose positive. Ho visto comunque una crescita abbastanza evidenza di Mustacchio rispetto chiaramente agli primi spezzoni della delle partite che aveva disputato e una nota positiva viene dai giovani. Giovani che devono giocare assolutamente se si fanno giocare possono crescere. Una conferma di Bani che ha tenuto bene la sua posizione. Filippini a mio avviso non ha fatto male però effettivamente la coperta è sempre piuttosto corta. Ho visto un Emanuello un pochino meno brillante del solito e quindi è venuto meno quel puntello di centrocampo che invece così bene ci aveva assistiti con la partita con Livorno. Io direi che comunque la partita poteva assolutamente finire almeno con un risultato di parità perché comunque la Provercelli aveva tenuto bene soprattutto nel primo tempo. Sicuramente nella seconda fase della partita non c'è stato un calo fisico ma c'è stato un calo secondo me di concentrazione che ha provocato quell'episodio che purtroppo ha portato alla rete. Sì siamo un po' mesti siamo un po' mesti anche perché in realtà come accennavano gli amici e colleghi non si intravede per la prossima settimana il recupero dei giocatori che attualmente sono fuori credo proprio che non rientrerà nessuno voi come la vedete? Lì bisogna farla domanda, girare la domanda al medico sociale della Provercelli, non lo so. Però mi sembra di avere intuito che Rossi potrebbe tornare disponibile non al cento per cento sicuramente. Io su Rossi personalmente ho le mie riserve molto fin adesso è un oggetto misterioso tanto elogiato quanto quanto nascosto nel senso non ha ancora messo non ha ancora fatto vedere le sue potenzialità. Grazie Massimiliano dunque sul recupero e sulla figura sul ruolo di Rossi. Sul recupero non ci resta altro che aspettare e sperare perché non non sappiamo la prepara probabilmente la partita verrà preparata senza questi giocatori al massimo recupero in estremi su un giocatore. Rossi parla il suo passato di buon giocatore però Vercelli dobbiamo essere onesti non è stato ancora visto quindi né positivo né negativo perché ha fatto qualche apparizione probabilmente è stato messo in campo quando non poteva scendere in campo e quindi però per il momento io penso che la Pro deve deve pensare a programmare queste gare con l'organico attuale che ha e trovare una 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 formazione una squadra che come adesso riesca a sopperire a queste essenze anche per non provocare questi recuperi magari frettolosi che poi dopo si fermano ancora i giocatori per un mese questo è. Assolutamente corrette le analisi dei nostri amici dunque chiudiamo ora con qui da questa posizione con altri due innamorati tifosi della Pro come vedrete come vedete come come pensate che si svilupperà la prossima settimana questa Pro Vercelli Come una sfida con una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. Allora io l'ho già detto l'altra volta il Como ha due attaccanti forti che segnano e insomma per gli amanti delle statistiche di solito una squadra per salvarsi deve avere almeno un centravanti che segna almeno dieci gol quindi noi dobbiamo puntare su questa cosa qua adesso Ettore Marchi sta facendo fatica perché non arrivano i cross perché gioca molto spalla la porta per tenere sulla squadra però la statistica parla chiaro bisogna avere un giocatore che fa almeno dieci gol per cercare di salvarsi. Dieci gol per salvarsi? Sì segnare diciamo che è la base del caccio non segnare come stasera sono altri tre punti buttati col Como diventa fondamentale perché onestamente non vincere in casa col Como non so dove puoi poter andare a fare i punti poi se gli avversari se la buttano dentro vince anche con Livorno però onestamente con le tue forze sabato diventa veramente fondamentale e i giocatori da recuperare non è che possiamo recuperare tutti questi speriamo in Rossi io sono uno degli innamorati calcisticamente parlando di gatto però cioè speriamo che possono fare la differenza onestamente comunque il crucio il noce della questione è che tu non segni purtroppo non segniamo e allora l'augurio è che la pro ritorni alla rete nel prossimo turno contro il Como al Robbiano Piola noi ci saremo sempre forza pro forza pro forza pro forza pro forza pro Grazie per la visione!